carissimi amici bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicati ai vizi e alle virtù stiamo nell'ampia sezione dedicata alla virtù cardinale della giustizia che ci saremo accorti mano a mano che stiamo andando avanti nella strada che è una virtù molto molto articolata quindi un unico nome ecco perché si chiama cardinale ma una serie abbastanza ampia di sfaccettature ne abbiamo viste alcune ce ne sono ancora diverse non so se questa sera riusciremo a concludere l'argomento perché ci sono ancora diverse cose abbastanza importanti da trattare e da focalizzare quindi eviterei di fare troppi preamboli e andrei subito passerei subito alla alle prossime che dobbiamo vedere adesso subito cioè la gratitudine che è la quarta parte integrante della virtù della giustizia sicuramente vedremo anche la vendetta ossia la quinta parte integrante con sorpresa di qualcuno la vendetta ovviamente rettamente intesa vedremo il modo con cui la si prendere è una parte integrale della virtù cardinale della giustizia poi ci saranno anche la veracità e l'amicizia settima ottava parte ed infine nona decima e undicesima parte no la nona decima che sono la liberalità dell'equità o epicheia andiamo subito a parlare della gratitudine e della vendetta allora la gratitudine o riconoscenza attenzione si faccia presente che è parte integrante della virtù cardinale della giustizia quindi essere grati possiamo subito dire in generale per un beneficio ricevuto non è meglio sono grato quindi sono una persona educata sono una persona gentile no no è un atto dovuto la gratitudine quando si parla di giustizia ricordiamo sempre che stiamo sempre e dentro l'ambito degli atti dovuti cioè non farlo è peccato pensiamo che stiamo nel mese del sacro cuore per esempio no quando gesù parla di ingratitudini rivolte contro di lui l'ingratitudine è una cosa grave perché è una mancanza al dovere grave che abbiamo di essere poi fronti suoi non ne parliamo grati per i benefici ricevuti vediamo come definisce santo ammaso la gratitudine o riconoscenza anche no la volontà di ricompensare un altro ricordando le attenzioni della sua amicizia questa gratitudine dovuta anzitutto a dio poi ai genitori a tutte le persone costituite in autorità ed infine a tutti i propri benefattori la ricompensa del beneficio ricevuto attenzione è un obbligo morale del beneficiato e si sostanzia anzitutto in cosa uno in affetti riconoscenti noi dobbiamo voler bene a chi ci ha fatto del bene poi attenzione nell'accettare il dono ricevuto con gioia quando ti fanno un regalo tu devi mostrare apprezzamento pensiamo i regali inestimabili che ci ha fatto nostro signore ma ieri è stata la festa del corpus domini quando parla di ingratitudine quale apprezzamento dovremmo avere per il dono dell'eucaristia quanto come dire dovremmo appunto riceverlo con gioia accettare questo dono con gioia io in una delle pratiche ho parlato della piaga perché oggi è una piaga sempre più dilagante delle comunioni sacrile che non dovrebbero neanche esistere ma nella mente del signore questo per esempio si vede benissimo negli scritti della salva di dio luisa piccarreta lui vorrebbe entrare nei cuori di tutti vorrebbe che tutti facessero delle sante comunioni il problema è che prima di farla entrare bisogna prepararli una degna accoglienza ma per quanto sta in lui lui vorrebbe che tutti facessero la comunione e non fare la comunione è un'ingratitudine ripeto non fare la comunione non vuol dire che allora me la vada a fare comunque sia quindi non stare in condizione di poter fare la comunione ecco diciamo così è un'ingratitudine ed infine terza cosa nel ricompensare il benefattore possibilmente con qualcosa di più di quanto ricevuto i confronti di nostro signore con più di quanto abbiamo ricevuto è un po difficile chiaramente il vizio opposto è l'ingratitudine che nasce dal disprezzo dei benefici ricevuti ed è molto grave quando rivolta a dio è da confessare l'ingratitudine l'ingratitudine può anche essere dovuta a negligenza per esempio dimenticare benefici ricevuti ma non per questo si è scusata ora oltre che durante le celebre apparizioni a santa margherita nel sacro cuore gesù anche nel vangelo se facciamo attenzione e ricordiamo si è lamentato dell'ingratitudine ricordiamo no guardate la guarigione dei dieci lebrosi luca 17 li guarisce dice andate a presentarvi dai sacerdoti mentre vanno guariscono uno torna indietro gli grazie e gesù dice poi hai uno guariti dieci gli altri nove dove stanno ma ti pare che tu guarisci dalla dalla lebre non vi manca di grazie a chi a chi da guarivo cosa analoga fece la madonna a fatima sappiamo che a fatima ripercorrendo diciamo la linea che parte dal vangelo e passa attraverso il sacro cuore si è arrivati alle offese commesse contro il cuore immacolato di maria e quindi ai cinque sabati cosa che cosa chiede gesù nei primi nove venerdì e primi cinque sabati riparazione riparazione al cuore immacolato di maria per le offese per le ingratitudini la riparazione si ha ed è dovuta quando si manca alla giustizia sono i peccati che vanno riparati quindi attenzione a questa parte della giustizia sulla vendetta bisogna fare un discorso un pochino più delicato ovviamente articolato la vendetta non è altro che il castigo inflitto al colpevole per i peccati oppure da un punto di vista della legge umana i reati che ha commesso ora non è mai lecita la vendetta mai ed è in questo senso che è proibita dalla saga scrittura quando ha come fine la propria soddisfazione mi vendico perché ho tale disposizione è propria dell'odio e l'odio è contrario alla carità è invece lecita quando ha come fine 1. l'emendamento del colpevole 2. la tutela della pubblica quieta e sicurezza e 3. della giustizia e dell'amore di Dio attenzione salvo sempre il rispetto delle debite circostanze fermo restando che la vendetta intesa in questo senso attenzione quindi che abbiamo subito già che non è vendetta ma è semplicemente retribuzione di una pena con una pena che ha commesso una cosa meritevole di essa quindi un male morale grave oppure per quanto riguarda la legge umana un reato ora non è mai lecito mai la vendetta privata mai e peraltro a un cristiano non è mai lecita la vendetta solo non è mai lecita la vendetta privata ma non è lecita nemmeno il desiderio di vendicarsi questo già nell'antico testamento si raggeva nel libro del Siracide chi si vendica avrà la vendetta del Signore ed egli terrà sempre presente i suoi peccati ma il Signore Gesù nel Vangelo e San Paolo nelle sue lettere hanno chiaramente affermato che non è vendicarsi una cosa che non si può fare mai per nessun motivo quanto piuttosto sopportare con pazienza le ingiurie fatte alla propria persona ok così o invece attenzione è addetta di San Giovanni Crisostomo sarebbe invece il colmo dell'impietà tollerare le ingiustizie verso Dio allora se me le fanno a me me ne prendo un sacco una sporta ma se le fanno verso Dio dobbiamo ergerci per esempio per esempio nella saga scrittura si vede lo zello di Elia oggi non applicabile così come è stato vissuto da questo grandissimo uomo di Dio che per esempio stermina i 400 profeti di Baal si vede anche il nostro Signore Gesù Cristo nel famoso episodio dell'aver cacciato risolutamente anche con l'uso di una certa moderata violenza quindi i mercanti del Tempio oppure nelle invettive sonore che ha rivolto contro i farisei poco prima della sua passione come ci informa soprattutto il Vangelo di Matteo ora lo zello infatti che è la radice prima della vendetta fa considerare come fatte a sé le ingiurie fatte a Dio e questo a causa della carità che trasforma l'amore di Dio in amore fervente quindi chi ha zero non sopporta di vedere l'onore di Dio conculcato messo sotto i piedi e quindi si erge eh allora però qui bisogna fare attenzione che noi non possiamo fare come Elia né tantomeno fare come Gesù ecco la difesa dei diritti di Dio offesi da uomini empi e ingrati e oggi ce l'abbiamo tutti i giorni di esempi di questo genere e da tutte le parti anche da parti dove non dovrebbero venire perché sa che i nemici di Dio insomma offendano il suo onore vabbè pace insomma no ma che a volte l'onore di Dio si è offeso da quelli che dovrebbero essere i suoi amici a volte addirittura i suoi migliori amici questo veramente causa un dolore non indifferente e fa correre il rischio di trasformare lo zelo in sdegno ecco e in ira che poi non compie quello che è giusto davanti a Dio quindi la difesa dei diritti di Dio offesi da uomini empi e ingrati ricorda il grande dottore Angelico va compiuta con mezzi pacifici anche se fermi mezzi pacati e proporzionati o salva sempre la competenza delle autorità umane che devono intervenire inutile dire che dinanzi ad alcune offese gravissime che vengono perpetrate in pubblico nei confronti della religione ci ho fatto anche un tweet nei giorni scorsi le autorità devono intervenire per giustizia perché il vilipendio alla religione continua a essere un reato non fa niente che la religione adesso non esiste più la religione di Stato perché lo Stato si è messo in testa che è laico eccetera eccetera ma c'è comunque un grave vilipendio e ne sono stati perpetrati in questi giorni come tutti sappiamo che deve essere penalmente perseguito quindi le reazioni private ripeto sono sempre pacifiche pacate e proporzionate ma la competenza delle autorità umane esige il loro intervento evidentemente poi c'è anche quella divina a quella divina state proprio tranquilli che non fallisce mai nessuno si mette mai in testa cioè la giustizia divina questo sia chiaro non solo che esiste ma è inesorabile davanti a Dio non passa neanche una virgola e nessuno si sogni neanche la notte di andare a dimenticarsi questa cosa in nome della misericordia perché si trova a parte che stanno sullo stesso piano ma sono sullo stesso piano ma agiscono però in maniera complementare la misericordia consiste semplicemente in questo da parte dell'Altissimo allora Dio rimette l'offesa fatta a sé trasgredendo la sua legge questa è la misericordia se non ci fosse questa remissione di questa offesa noi non potremmo mai essere ammessi alla divina presenza significa che andremo semplicemente tutti all'inferno rimettere l'offesa fatta a sé non è affatto rimettere la pena dovuta a quelle offese fatte a Dio o al prossimo a seconda di chi sia il soggetto diretto del peccato commesso ancora si scontano tutti cioè non si va all'inferno ma si va in purgatorio non è che ricevuta la misericordia si va direttamente in paradiso questo deve essere chiaro noi dobbiamo perfettamente sapere che anche per una bugia di scusa o una parola inutile come dice Gesù nel Vangelo di Matteo noi renderemo conto davanti a Dio nel giorno del giudizio e sta tranquilla che da quella parola inutile bisogna purificarsi con pene espiatorie se no in paradiso non ci si entra questo sia chiaro e che questo discorso possa non piacere a molti orecchi che ci hanno pruriti di cose nuove o che gli va di sentirsi soltanto ciò che li accarezza e non la verità non cambia di una virgola la realtà delle cose io come ministro dell'altissimo sono gravemente tenuto a tirare la verità questo non deve in generale certamente nessun tipo di sentimento di paura o meno che mai di terrore nei confronti dell'altissimo o paralisi di questo genere ma a caso mai senso della sua gloria e grandezza è anche una grande speranza insomma perché sapete che molte malefatte ahimè sfuggono alla giustizia umana la fanno franca ma amici miei guardate che dinanzi alla giustizia divina non la fa franca proprio nessuno chi pensa di fare il furbetto il furbastro o di poter spadroneggiare abusare dall'alto dei propri poteri veri o presunti o delle loro alte posizioni quindi pensano di essere intoccabili facciano buon divertimento fino a quando possono poi se la vedranno con la divina giustizia quindi questo è di grande consolazione e anche però di grande demonito perché anche noi dovremmo andare dinanzi alla divina giustizia non soltanto i grandi peccatori o i grandi colpevoli insomma no? ecco la vendetta prosegue San Tommaso così con tutti quanti questi distingo spero rettamente intese è il giusto mezzo tra la grudeltà che eccede nella punizione e la blandizia che difetta di eccessiva indulgenza attenzione che questi discorsi evidentemente facendone un'applicazione estensiva valgono anche per esempio specialmente perché è costituito in autorità pensiamo ai genitori nei confronti dell'educazione dei figli pensiamo alle autorità anche ecclesiastiche nei confronti dei compiti di governo che hanno allora bisogna fare attenzione a conservare il giusto mezzo tra la crudeltà o durezza però anche la blandizia e l'eccessiva indulgenza il cardinal Petrocchi lo cito in continuazione ci ripeteva sempre a noi che l'eccessiva severità e l'eccessiva indulgenza sono entrambi i difetti però ci ricordate sempre che fa meno danni per molestando che danni li fa ma meno l'eccesso di severità che non l'eccesso di indulgenza e io sono d'accordo con questa cosa quindi concludendo la vendetta da quanto detto fino a questo punto si può e si deve comprendere che ha due aspetti tra l'altro queste cose studiavano io l'ho studiata anche il diritto penale quando a suo tempo lo studiarono qual è il fine della pena diritto penale sappiamo benissimo che i reati comportano la combinazione di una pena la carcerazione la carcerazione è la pena oggi ordinaria la detenzione e qual è il motivo sono due uno è punitivo o retributivo in senso stretto cioè ristabilire l'ordine della giustizia violato dal colpevole mediante una pena adeguata e proporzionata al tipo e al numero dei reati commessi attenzione che questa giustizia davanti a Dio c'è Dio ha anche questa giustizia la retribuzione se non Gesù Cristo in croce si è morto senza nessun motivo chiaro? c'è anche un altro aspetto che è ciò per cui il nostro Signore ci infligge a volte delle pene in questa vita si chiama emendativo o medicinale cioè che fine ha quello di favorire la correzione e l'emendamento del colpevole in modo che una volta che si corregge quindi non reitera reati se si tratta di leggi civili o peccati gravi se si tratta di legge morale per il bene suo e dell'umano consorzio ora Dio esercita la giustizia retributiva dopo la vita terrena dopo la vita terrena c'è la giustizia retributiva e come se non c'è? ed è rigorosissima in base ai meriti ricevuti tu ci avrai un grado di gloria in base ai peccati commessi ci avrai un tot di pene se non ti sei pentito e sei condannato alla pene eterna come dire le sofferenze che potranno infliggerti i demoni non andranno al di là della giustizia cioè di quello che ti sei meritato con i peccati non perdonati e non confessati commessi se si va in paradiso tu ci avrai un grado di gloria proporzionato ai meriti ricevuti può essere molto basso può essere basso può essere medio può essere medio alto può essere alto può essere molto alto può essere altissimo può essere veramente notevole cioè nella casa del padre mio ci sono molte dimore ma guardate che il nostro grado di gloria in cielo è proporzionato ai meriti tante opere buone hai fatto quanto più alto sarà il tuo grado di gloria quanti meno peccati hai fatto tanto più alto sarà il tuo grado di gloria attenzione quanto più i peccati commessi li hai espiati e riparati volontariamente quanto meno purgatorio ti farai e non solo meno purgatorio ti farai perché l'espiazione e la penitenza volontaria non soltanto ci fa risparmiare il purgatorio ma essendo un atto libero è un atto meritorio quindi ci fa risparmiare il purgatorio e ti al tempo stesso proietta ad un grado più alto di gloria queste cose le dobbiamo sapere perché se uno non le sa immaginate come 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 campa cioè si perde una montagna di chance importantissime nella vita terrena e dopo una volta che siamo morti queste chance non ci stanno più bene questo può bastare per queste due virtù proseguiamo considerando adesso la veracità e l'amicizia interessante la sesta parte integrante la veracità è quella splendida virtù questa è bellissima che consiste nel dichiarare senza alterazioni le cose che sono sono state e saranno quindi come comprendiamo da questa bellissima definizione guardate che San Tommaso era sempre un grande nel definire in realtà la veracità comprende il dire il vero sia su ciò che è stato e che è ma anche sulle cose che saranno cioè la fedeltà alla parola data questa bellissima virtù proprio sempre della giustizia è assai rara ma è molto necessaria tra gli uomini noi proviamo a pensare a un mondo in cui nessuno mentisse e in cui tutti fossero fedeli alla parola data che bel mondo sarebbe quindi comprendiamo subito l'importanza e la bellezza di questa virtù no? i cui vizi opposti sono la menzogna la simulazione l'ipocrisia la millanteria o iattanza e l'ironia attenzione alla menzogna che è una dichiarazione falsa fatta con l'intenzione di ingannare e secondo Sant'Ommaso può essere di tre specie dannosa giocosa o discusa detta anche bianca le famose bugie bianche la prima può essere spesso peccato mortale una bugia dannosa quindi le altre sono sempre comunque peccati veniali attenzione anche quelle di scusa e anche quelle giocose ma non devono essere commesse a cuor leggero pur essendo peccati veniali perché sono sempre trasgressioni all'ottavo comandamento ora attenzione che ci sono delle circostanze della vita in cui non solo che è impossibile ma non è né opportuno né tantomeno necessario dire tutta la verità cioè essere veraci non significa dire a tutti tutto ma significa dire sempre il vero è un'altra cosa cioè quello che dico è vero ma non è detto che sia tutto e non è detto che io lo debba dire a tutti ok per esempio rispondere in maniera generica o ambigua a chi fa domande in debite indiscrete o inopportune non significa mentire anzi è esattamente quello che si deve fare per non mentire ed è importantissimo imparare questa diciamo così tecnica perché le bugie di scusa generalmente si si sprecano noi dobbiamo avere però in coscienza la possibilità di poter dire davanti a dirgli uomini io le bugie non le dico mai se ti dico una cosa è quella cioè quanto meno io ne sono certo certo sono un essere umano quindi potrei sbagliarmi ma io non mento non si mente mai le bugie per quanto mi riguarda sono come le parolacce bisogna arrivare al grado in cui si dice io le parolacce non le dico mai per nessun motivo io le bugie non le dico mai per nessun motivo voi immaginate una persona che riuscisse ad arrivare a questo come dire quale grado di venerabilità che avrebbe il nuovo oggettivo quindi questa per quanto riguarda la menzogna la simulazione la simulazione differisce dalla menzogna perché semplicemente nella modalità perché con la menzogna noi dichiariamo il falso con le parole con la simulazione dichiariamo il falso con le opere e con le azioni quindi facciamo apparire con le opere e con le azioni come vero qualcosa che non lo è o viceversa come falso qualcosa che è vero vale ovviamente quanto detto circa la menzogna d'accordo non si può simulare certamente anche qui senza simulare cose false è possibile nascondersi dietro qualche comportamento per non dire o non far capire ciò che non deve essere detto e ciò che non deve essere fatto capire in certe circostanze ancora l'ipocrisia note ipocrisia quella che Gesù rimproverava ai farisei è una forma di simulazione particolarmente odiosa perché cosa è l'ipocrisia consiste nella simulazione esteriore o della santità oppure della retta intenzione allo scopo di apparire diversi da quello che si è o peggio di tendere insidie al prossimo Sant'Omasto non ha dubbio nel definire questa cosa peccato mortale e particolarmente odioso a Dio non essere ipocrita non mostrarti per quello che tu non sei per nessun motivo ancora sempre contrario alla veracità la millanteria il millantato credito scusate lo conosciamo anche oggi o la iattanza cioè quando uno innalza se stesso dicendo di sé cose superiori alla realtà che è un peccato frequentissimo assai poco contestato che nasce dalla superbe e dalla vanna gloria Sant'Omasto dice che è evitabile perfettamente solo dai perfetti per cui è ordinariamente un peccato veniale anche se assai odioso specialmente al prossimo attenzione che in senso morale ironia non è come quello non ha la significazione che noi abbiamo nel senso comune quindi l'ironia significa chi scherza o come dire fa un pochino del del sarcasmo insomma o delle giocosità delle facezie sulla realtà questo non sempre è peccato spesso non lo è ma l'ironia è la falsa sottovalutazione di se stessi cioè il contrario della iattanza o millanteria quindi è quella volontà di apparire umili o grandi peccatori ma allo scopo di ottenere attestati di eccellenza e di santità anche questo è nella specie ovviamente un peccato veniale ma camuffa come notano gli odori di spirito delle forme assai raffinate di superbia o riguardo la veracità bisogna dire che non è peccato dire i propri peccati reali al prossimo ma è altamente sconsigliabile non è peccato tacere le proprie qualità anzi questa è sempre una cosa molto raccomandabile meno si parla delle delle nostre qualità presunte o supposte meglio è attenzione che invece è sempre peccato mentire in nome dell'umiltà noi non possiamo mentire neanche in nome dell'umiltà sto facendo un digiuno mi trovo in condizioni per cui o per qualche domanda diretta e a cui non posso sottrarmi non posso far finta di non aver sentito cambiare discorso cioè quindi devo rispondere dico molto semplicemente sto facendo un digiuno ma come Gesù ha detto che non bisogna dirlo a nessuno allora Gesù ha detto che non bisogna dirlo a nessuno di propria spontanea volontà certo che non dobbiamo mai dire né tantomeno dobbiamo ostentarlo o desiderare segretamente e magari apparire all'esternamente speriamo che qualcuno se ne accorga Dio questo lo vede ma se c'è una domanda diretta a cui non mi posso sottrarre se non si può evitare di rispondere quindi di fare orecchia da mercante si dice umilmente la verità e io non ho fatto nessun tipo di mancanza perché appunto non ho fatto una cosa di questo genere in maniera libera e volontaria ma solo perché costretto dalle circostanze ora l'amicizia sarebbe meglio chiamarla l'affabilità anche qui un po' prima perché questo è un altro termine un pochino equivoco perché nella letteratura classica appunto l'affabilità si designava in questo modo perché l'amico dovrebbe essere una persona affabile per antonomasia allora è quella virtù per mezzo della quale ho detto proprio in pochissime parole l'uomo tratta tutti nella vita quotidiana nel modo debito quindi con assoluto rispetto sia nelle parole che nei fatti è indubbiamente una delle virtù più amabili e gradite al cielo e che allietano non poco la vita di chi entra in contatto con una persona veramente affabile ossia che significa gentile cortese educata garbata sorridente rispettosa quanto ci piacciono le persone che sono così e per quanto ci riusciamo facciamo in modo di tendere a questo modo di essere i vizi opposti a questa bellissima virtù sono anzitutto l'adulazione ossia trattare il prossimo in maniera da compiacergli ma quante persone fanno le cose cercando la compiacenza degli uomini ossia di fatto adulandole l'adulazione ha anche un'altra sfaccettatura peggio ancora quindi si ha quando un comportamento cattivo di un'altra persona lo si adula dice no è bello va bene questo non c'è niente a che fare con la affabilità con la cortesia e con la gentilezza capiamo che dentro questo orizzonte quindi con piacere il prossimo addirittura avallarne in maniera diretta o indiretta i peccati edulandolo capite che qui il confine con l'idolatria e quindi o con l'eccesso di riconsiderazione che una persona umana per quanto degna e santa possa apparire è molto molto labile allora gli esseri umani sono sempre dei poveri esseri umani come noi avere garbo gentilezza educazione sorriso e rispetto non significa mai considerare in maniera eccessiva la persona umana i doni che noi vediamo nelle altre persone umane di natura o di grazia dobbiamo attribuirli sempre a Dio il Vangelo dice risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone e non aggiunge e così vi dicano bravi e vi diano gloria no e diano gloria al Padre vostro che è nei cieli capite quindi non vanno rivolti i complimenti al destinatario di qualche supposta vera o presunta virtù ma colui che è l'elargitore di tutti quanti i beni perché senza di lui non possiamo fare nulla opposto all'adulazione invece però è il litigio quindi non essere adulatori e essere sempre quindi fermi nella affabilità non significa certamente da un lato non significa certamente approvare mai in nessun caso i comportamenti cattivi della persona ecco dall'altro non bisogna cadere nel vizio opposto alla durazione che è il litigio cioè la tendenza ad avere costantemente atteggiamenti irrispettosi sgarbati aggressivi nei confronti del prossimo contraddicendolo a volte anche gratuitamente e senza alcun timore di rattristarlo quindi i cristiani non sono litigiosi non sono adulatori non adulano nessuno ma non sono nemmeno litigiosi quindi ci sono dei difetti delle mancanze del prossimo che non possono essere corrette ma non ti metti a litigare o a fare le guerre meglio pregare perché quella persona veda comprenda si renda conto delle cose che sta facendo e che non sono belle negli occhi di Dio e negli occhi degli uomini forse riusciamo a finire amici abbiamo da vedere le ultime due la liberalità e l'equità le ultime due parti integranti della virtù cardinale della giustizia la liberalità si definisce anche beneficenza o generosità che non è altro che il retto uso dei beni temporali secondo giustizia attenzione qui stiamo sempre nella giustizia in modo particolare del denaro che è l'oggetto proprio della liberalità a favore del prossimo noi sappiamo che di questi argomenti parla tra l'altro la dottrina sociale cosiddetta della chiesa che si è andata molto sviluppando nell'ultimo secolo diciamo così però molti cristiani non hanno affatto una idea chiara in merito a questa virtù ne dispongono di una adeguata formazione su un tale aspetto che è tanto importante della vita cristiana allora i Vangeli ci daranno molti episodi in cui Gesù ammonisce circa il pericolo di un uso egoistico o distorto delle ricchezze si pensi per esempio alla parabola dell'uomo stolto del ricco epulone quindi lo stolto che accumulava tutto per sé e dice adesso finalmente possiamo goderci la pensione si direbbe oggi e oppure il ricco cattivo il povero Lazzaro il ricco epulone senza nome che per aver utilizzato delle risorse soltanto per fare bagordi senza neanche accorgersi che c'era un mendicante alla piaga nel suo tavolo è entrato all'inferno da qui tutto nel Vangelo quindi in ogni caso anche al di là di questi episodi Gesù ha sempre sortato un grandissimo distacco spesso anche effettivo ma sempre almeno affettivo dalle ricchezze del bene di per sé è ovvio che le ricchezze di per sé sono un bene non un male ma è molto difficile usarle secondo giustizia ed è per questo che rappresentano un grande pericolo per esempio Gesù condanna espressamente l'accumulo eccessivo ed egoistico di ricchezze quando l'accumulo diventa eccessivo è solo egoistico di ricchezze non usciamo dal Vangelo è dalla volontà di Dio Gesù ha condannato l'uso di esse esclusivo e finalizzato esclusivamente a gozzoviglie e bagordi dimenticando la necessità del prossimo ed anche un attaccamento che diventi eccessivo e che impedisca di fare la volontà di Dio come nel caso per esempio del giovane ricco ora il fatto che la liberalità sia una parte della giustizia attenzione non della carità ci fa anche capire un'altra cosa che elargire per esempio un aiuto a chi è realmente nel bisogno quindi non è che fai il mestierante oppure ci marcia no no ma è realmente nel bisogno non è un atto di misericordia ma è di giustizia e quindi non è facoltativo ma doveroso perché se io una persona si trova in necessità ed io ho ciò che potrebbe soddisfare le sue necessità e di puro arbitrio perché non mi vanno gli erodoro questo è un problema la dottrina società della chiesa a riguardo insegna questa cosa il principio della cosiddetta destinazione universale dei beni creati cioè Dio ha disposto che certamente esiste la proprietà privata e deve essere tutelata quindi è possibile agli uomini possedere beni e ricchezze propri e personali tuttavia tuttavia c'è il principio di destinazione universale dei beni creati e quindi che cosa comporta questo comporta che vedendo le cose che ho un occhio sopranaturale Dio ha costituito i ricchi perché dispensassero meritando in questo modo i suoi beni a favore di chi per varie circostanze si trova nel bisogno o nell'indulgenza come disse Gesù a conclusione della parabola del ricco stolto con Gero di Luca 12-21 guai a chi campa per accumulare denari e beni ma non arricchisce davanti a Dio la liberalità la liberalità ha due vizi opposti chiaramente lo capiamo subito l'avarizia per difetto e la prodigalità per eccesso figlio il prodigo no? l'avarizia l'abbiamo già ampiamente trattato a suo tempo per cui non c'è bisogno di ripetere ciò che abbiamo già visto basti ricordare la frase di San Paolo a Timoteo l'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mani però opposto alla valizia c'è la prodigalità che consiste nello spendere denaro senza criterio e senza utilità solo per sé per i propri interessi le ricchezze di cui si dispone questo bruttissimo vizio è oggi diffusissimo è la vera causa della povertà del mondo e della fame sapete che qualche anno fa fu calcolato c'è qualche mostra che per sfamare i circa 805 milioni di persone che nel nostro pianeta si vogliono di fame basterebbe semplicemente non sprecare nulla pensate questi numeri lo raccontavo tantissime volte qualche anno fa portai ragazzi ad assistere ad una mostra sul cibo curata peraltro da agenzie rigorosamente laiche quindi non cristiane allora ogni anno muoiono dicevo prima di fame circa 805 milioni di persone ma ogni anno vengono sprecate nel mondo pensate che 1,3 attenzione miliardi di tonnellate di cibo con un miliardo virgola 3 tonnellate di cibo hanno fatto dei calcoli sarebbero sfamate 3 miliardi 3 miliardi circa di persone cioè 4 volte tanto quasi il numero di persone che ogni anno muore di fame capite che quando si sentono i discorsi se Dio esistesse fosse buono non morirebbero i bambini di fame nel mondo uno può sempre parlare a bambero lo dicevo anche questa sera durante l'omelia prendendo ad esempio quell'edificante ecco caso vetro testamentario che poi è una costante della storia dell'antico testamento israele comincia ad allontanarsi da Dio a fare del male e lì che piovono addosso tutte le sciagure possibili immaginabili come sempre accade ma la colpa di chi è del signore che l'ha fatta o di chi si era andato a cercare quindi dei mali presenti nel mondo colpevoli siamo noi come agenti principali e anche diavoli come stigatori per carità ma Dio non è mai colpevole che qualcuno ne pensi ne scriva ne canti non lo è quindi attenzione a sperperare a sprecare perché molte volte cioè uno sperpero quindi buttare i soldi sono soldi rubati ai poveri dobbiamo confessarle queste cose uno può campare insomma nel senso che però su questo argomento non c'è una vita cristiana come dire solida se non siamo un pochino intanto scherzo ma neanche troppo no ma dico ci sono più di qualche signorina che se tu gli chiedessi a bruciapelo dimmi un po' quante paia di scarpe hai non te lo sa dire ma che c'è tutte queste cose specialmente proprio perché aspira alla perfezione della vita cristiana devono essere valori che poi cominciano ad essere immagazzinati ecco interiorizzati metabolizzati ultima parte della virtù cardinale della giustizia è la cosiddetta equità o epicheia molto importante anche questo cioè che cos'è questo la capacità di discernere l'eccezionalità di circostanze che rendano necessaria la disapplicazione della legge generale al caso concreto circostanze straordinarie esigono regimi straordinari questo vale per tutte le leggi umane comprese quelle ecclesiastiche e non è altro che un'applicazione vera e pratica dell'antico adagio romano quante volte avremmo dovuto penso ripensarci in questi nostri tempi summa l'ex summa ignuria cioè c'era anche la variante del summa ius summa ignuria cioè un'osservanza letteralistica formalistica rigorosa della lettera della legge avulsa da certe circostanze genera non la giustizia ma una somma ingiustizia le leggi tutte le leggi questo si studia nella teoria generale del diritto tutte le leggi umane sia civili che ecclesiastiche quando si tratta di leggi umane sono per definizione generali e astratte non possono prevedere tutte le circostanze che sono potenzialmente infinite in cui potrebbero o dovrebbero essere applicate in questo senso possono sempre verificarsi delle situazioni in cui applicare una certa norma sarebbe completamente assurdo fuori luogo dannoso e contrario ai divini voleri questo giudizio va fatto dalla persona in coscienza davanti a Dio evidentemente da una coscienza ben formata e questo non è un depotenziamento o uno svuotamento della forza della legge assolutamente ma un modo per ribadirne la sua forza cogente che è generale ma non assoluta la coggenza assoluta della legge è propria solo della legge di Dio quella non ammette eccezioni mai se c'è una legge divina di diritto come si chiama positivo o naturale cioè un comandamento formulato espressamente da Dio o iscritto da Dio nella legge naturale oggi misconosciuta da quasi tutti lì non ci sono eccezioni ma nelle leggi umane anche ecclesiastiche le eccezioni ci sono e come e come l'epicheia dà quella capacità di discernere il momento la circostanza eccezionale e concreta in cui mi posso prendere la responsabilità di disapplicare a questo caso la legge generale ripeto solo quando questa è umana perché dispense dalla legge divina positiva e naturale non ci sono né nessuno può darle io nella mia esperienza ho sentito dire ma io spero che queste cose se le inventino queste storie vecchie ah padre io sono sposato al comune faccio tranquillamente la comunione dico ah perché ma perché sono andato a compensarmi nel santuario X e mi hanno detto sì non si potrebbe fare ma tu sei un'anima talmente tre vuote talmente fate tranquillamente la comunione che me la prendo io la responsabilità nessuno può fare una cosa di questo genere nessuno nessuno manco il papa potrebbe fare una cosa del genere nessuno perché gli stai dinanzi ad una chiarissima manifestazione di una opposizione ad una legge divina la legge divina non è derogabile un battezzato può sposare può vivere il sacramento del matrimonio e la sessualità solo scusate può vivere l'unione matrimoniale e l'esercizio della sessualità solo all'interno del matrimonio sacramento e questo di diritto divino non è diritto umano nessuno può dispendere io non posso dire da due persone ma vabbè però voi c'è difficoltà a sposarvi non riuscire a organizzare il matrimonio quindi convivete ma si non fa niente basta che vi volete bene ti do la soluzione e viate a fare la comunione ma lo posso fare potrei mai fare una cosa di questo genere né io né nessuno allora quindi tutto questo ripeto non è una sorta di depotenziamento o di svuotamento della forza vincolante della legge ma è solo un modo per ripetirne la sua forza con gente ripeto che è generale ma non assoluta non assoluta ok e sono derogabili e dispensabili leggi umane mai quelle di è finito grazie a Dio speriamo grazie a Dio insomma la lunga presentazione della virtù cardinale della giustizia abbiamo visto le varie articolazioni in cui si sostanzia spero che tutto questo abbia potuto giovare in qualche modo al bene alla formazione e quindi evidentemente ad una sempre maggiore santificazione perché la tutta la giustizia l'abbiamo cercata di identificare evidentemente per poterla praticare che Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga alla prossima se io uovo grazie a Dio